Benvenuti a questo video di Global Public Cash Voglio parlarvi di Global Public Cash perché so che è l'attività che probabilmente stai cercando questo per raggiungere la tua indipendenza finanziaria perché come sappiamo il denaro è mal distribuito nel mondo il nostro scopo è quello di aiutare chi è in difficoltà economica o semplicemente sta cercando un secondo reddito o il successo e qui uniti possiamo tutti quanti insieme raggiungere il successo ti insegneremo un modo per ottimizzare il sistema di rete a tuo beneficio e vedrai come le tue entrate aumenteranno come tutto nella vita l'esito è una formula, non è un segreto qual è la nostra formula? seguire semplici passi ed approfittare di un'opportunità quando questa si presenta e qui abbiamo la nostra opportunità Robert Kiyosaki dice che le persone più ricche del mondo costruiscono reti tutti gli altri si sono allenati o si stanno allenando per cercare lavoro e come sappiamo con questa crisi del lavoro è molto difficile più grande sarà la rete e più facile sarà raggiungere l'indipendenza economica e questo si ottiene solo lavorando in team, in gruppo, piuttosto che singolarmente qualcuno una volta ha detto se vuoi le cose buone della vita cerca di aiutare quante più persone ad ottenere lo stesso sicuramente nessuno potrà avere successo da solo in questo mondo quanto devi investire per aderire al programma? devi fare un unico investimento iniziale di solo 10 dollari di tasca tua, nient'altro questo pagamento dovrai inviarlo al tuo sponsor o alla persona che ti indica il sistema e che si trova proprio sopra di te nel caso in cui il tuo sponsor diretto abbia già completato il suo primo livello questa è una vera ripartizione di ricchezza perché tutti guadagnano c'è un limite di guadagno? dei soldi che riceverò? no, non vi è alcun limite di guadagno la profondità in un sistema binario è infinita c'è una clausa molto importante dal terzo livello tutti i membri devono sponsorizzare almeno due persone dirette ed attive per ricevere i pagamenti dagli altri livelli più bassi altrimenti si perde il diritto di ricevere questi pagamenti dai suoi livelli più bassi altrimenti si perde il diritto di ricevere questi pagamenti quali vantaggi ricevo se decido di essere un membro attivo? beh, riceverai una serie di speaker motivazionali del leadership, il lavoro di squadra sarete portati per accedere all'area membri per controllare il 100% dei pagamenti e delle entrate di tutta la vostra rete avrai una replica del nostro sito web completamente automatizzato personalizzato con i vostri dati avete la formazione continua sulla generazione del traffico social media, network marketing tutto questo è un solo investimento di 10 dollari questa è un'opportunità di business a livello mondiale qualcuno si chiederà ma questo sistema è legale? sì, questo sistema è legale si tratta di un diritto costituzionale internazionale dare o ricevere denaro in qualsiasi parte del mondo a parte questo è legale al 100% in quanto ha dei prodotti sì, sono prodotti digitali ma sono prodotti che ognuno di noi acquista e vende questo lo vedremo dopo e questo sistema rientra tranquillamente nella legge 173 del 17 agosto 2005 che disciplina il multilevel marketing questo sistema è formato da 4 matrici 3 matrici 2x4 bene, ed una matrice 2x infinito il programma ha avuto il suo lancio ufficiale il 22 di aprile di quest'anno si possono avere sino a 3 account con lo stesso nome basta cambiare username e email è un sistema sviluppato su misura con questo possiamo usare questa piattaforma solamente con qualche centesimo che l'azienda poi ci chiederà non è stato ancora stabilito quanto stimola il lavoro di gruppo e la duplicazione come strumento non ci saranno altri pagamenti mensili non ci saranno abbonamenti e via di seguito ad ogni nostro passaggio di livello acquisiamo pacchetti digitali i membri guadagnano i propri introidi senza intermediari perché arrivano direttamente sui nostri conti fisici o virtuali per accedere a questo sistema hai bisogno solamente di 10 dollari che tirerai solamente una volta fuori di tasca tua abbiamo un piano guadagni per matrice che stimola la crescita e flusso costante di denaro c'è una regola d'oro da rispettare questa è bene che tutti quanti ne prendiamo atto perché quando riceveremo i nostri primi due pagamenti nel livello in cui ci troviamo siamo costretti ad avanzare al livello successivo realizzando il relativo pagamento alla persona che il sistema ci indicherà in che modo tante persone stanno guadagnando ecco andiamo a vedere noi quando entriamo entriamo tutti quanti in una matrice di argento effettuando il nostro primo pagamento noi andremo ad acquistare da rosa il pacchetto della mentalità dell'imprenditore capito come funziona il sistema io ho sponsorizzato Pietro e Paolo ed ho ricevuto da Pietro e Paolo 10 dollari a testa vendendo a loro quel pacchetto la mentalità dell'imprenditore con i miei due con i miei due pagamenti ricevuti io dovrò rispettare la regola d'oro e dovrò avanzare al livello successivo per fare questo io acquisto da Anna per 15 dollari il pacchetto multi level lavoro in rete e si sale al secondo livello quando dal secondo livello io ricevo i primi due pagamenti sono costretto ad avanzare al terzo livello e per poter avanzare al terzo livello dovrò pagare 25 dollari a Luigi dal quale io acquisto il pacchetto di tecniche di marketing online e vado a terzo livello e potrò ricevere denaro dai livelli che ho già percorso anche qui una volta che sono già a terzo livello con i primi due pagamenti che riceverò dovrò avanzare al quarto livello e per poter avanzare a quarto livello io devo acquistare da Carlo per 50 dollari il pacchetto di leadership e motivazione e saliamo a quarto livello senza perdere i guadagni che continueremo a ricevere dai livelli che abbiamo già percorso quando stiamo nel nostro quarto livello ed avremo raggiunto la somma netta di 100 dollari abbiamo l'obbligo di passare al primo livello della matrice oro siamo entrati nella matrice d'argento pagando di tasca nostra 10 dollari come vedete i livelli sono 4 qui con il sistema della duplicazione il sistema più semplice che possa esistere nel network marketing la duplicazione quindi sponsorizzare solamente due persone possiamo raggiungere questi risultati primo livello due persone investiamo 10 dollari ne guadagniamo 20 ne dobbiamo reinvestire 15 per passare al secondo livello e ci restano di guadagno netto 5 dollari secondo livello su 4 membri guadagneremo 60 dollari meno i 25 che dobbiamo reinvestire per passare al terzo livello e ci restano 35 dollari terzo livello guadagneremo su 8 membri 200 dollari meno 50 che ci servono per passare al quarto livello avremo un utile di 150 dollari quarto livello 16 persone andremo a guadagnare 800 dollari meno 100 per poter passare nella matrice d'oro quindi i 100 dollari netti che dobbiamo avere di guadagno per poter passare nella matrice d'oro ci resterà un utile di 700 dollari in tutto nella matrice d'argento abbiamo avuto un guadagno di 890 dollari e con i 100 dollari andremo ad aprire la matrice d'oro per accedere alla matrice d'oro se necessite essere posizionati nel quarto livello della matrice d'argento ed avere un utile minimo di 100 dollari le persone della nostra organizzazione ci seguiranno in questa matrice e continueremo a ricevere i pagamenti per la vendita dei pacchetti della matrice d'argento siamo passati nella matrice d'oro con il pagamento di 100 dollari anche qui si ripete la stessa cosa primo livello due persone abbiamo investito 100 dollari ne guadagniamo 200 150 saranno reinvestiti quindi avremo un utile di 50 dollari secondo livello 4 persone riceveremo 600 dollari sottraiamo 250 dollari per passare al terzo livello e ci restano 350 dollari terzo livello con 8 persone guadagneremo 2000 dollari reinvestiamo 500 ce ne resterà di utile 1500 una volta a quarto livello con 16 persone andremo a guadagnare 8000 dollari 1000 dollari ci serviranno per passare nella matrice di platino per aprire la matrice di platino e restaranno un utile netto di 7000 dollari in tutto con la matrice d'argento e la matrice d'oro abbiamo guadagnato sinatura 9790 dollari anche qui andiamo a vedere le caratteristiche per accedere la matrice di platino si necessita essere posizionata nel quarto livello della matrice d'oro o nell'ottavo livello della matrice unica che abbia come minimo un attivo di 1000 dollari le persone della nostra organizzazione ci seguiranno anche in questa matrice e continueremo a ricevere i pagamenti per la vendita dei pacchetti delle matrice argento e oro siamo passati nella matrice platino con un pagamento di 1000 dollari anche qui quattro livelli primo livello due persone abbiamo investito 1000 dollari ne guadagniamo 2000 ne investiamo 1500 avremo un guadagno netto di 500 dollari dal secondo livello con quattro persone noi riceveremo 6000 dollari di cui 2500 dobbiamo reinvestirli per passare al terzo livello e ci resta un utile di 3500 dollari terzo livello 8 persone andremo a guadagnare 20.000 dollari meno 5000 che ci serviranno per passare al quarto livello avremo un utile di 15.000 dollari quarto livello 16 persone andremo a guadagnare 80.000 dollari da cui sottraiamo 2.999 dollari per poter aprire la matrice diamante e avremo un utile di 70.000 e 1 dollaro il totale ricevuto sino alla matrice d'oro quindi calcolando la matrice d'argento oro e platino abbiamo guadagnato 98.791 dollari ecco per accedere alla matrice diamante si necessita essere posizionate nel dodicesimo livello della matrice platino e che abbia come minimo un attivo di 9.999 dollari le persone della nostra organizzazione ci seguiranno in questa matrice e continueremo a ricevere i pagamenti per la vendita dei pacchetti della matrice argento oro e platino siamo entrati nella matrice diamante con un pagamento di 9.999 dollari da questo momento sin dal primo livello tutti i pacchetti che noi andremo ad acquistare avranno un unico costo 9.999 dollari come vedete qui la matrice non è più fino a 4 livelli ma è all'infinito non abbiamo potuto mettere più livelli per motivi di spazio però ci siamo fermati qui a quinto livello perché chi è capace di sponsorizzare e portare avanti una grandissima rete tranquillamente potrà arrivare a sesto settimo ottavo nono decimo livello perché qui non c'è il limite di guadagno primo livello due persone abbiamo investito 9.999 dollari ne guadagneremo 19.998 reinvestiremo 9.999 dollari per passare al secondo livello e resteremo con 9.999 dollari di utile secondo livello 4 persone andremo a guadagnare 39.996 dollari da cui sottraiamo 9.999 dollari per passare al terzo livello e resteremo con 29.997 dollari terzo livello 8 persone guadagneremo 79.992 dollari reinvestendo 9.999 avremo un utile di 69.993 dollari quarto livello 16 persone avremo un guadagno di 159.984 dollari e da cui sottraiamo 9.999 dollari per passare al quinto livello ce ne resteranno 149.985 quinto livello 32 persone andremo a guadagnare 319.968 dollari vedete qui qui ancora investiamo 9.999 dollari per passare al sesto livello poi al settimo poi all'ottavo e via di seguito e avremo qui a quinto livello perlomeno un guadagno di 309.969 dollari come possiamo vedere il totale di tutte le matrici e qui ci siamo fermati solamente a quinto livello quindi non siamo andati in profondità in totale sino ad ora è di 668.734 dollari è eccezionale c'è un regolamento da rispettare certamente bisogna configurare almeno un sistema di pagamento online e lavorare in equipe bisogna aprire il livello successivo appena si ricevono i primi due pagamenti possiamo incassare fino al nostro secondo livello senza aver sponsorizzato nessuno dopodiché siamo obbligati a sponsorizzare altrimenti non guadagneremo più nulla se abbiamo attivazioni in attesa non riceveremo spillover dalla nostra offline fino a quando si accettano o si rifiutano il sistema poi accetterà automaticamente tutte le operazioni con più di 24 ore di ritardo senza verificare se pagamente siano state effettuate o meno se si riceve una notifica da qualche persona della nostra rete che vuole passare vuole avanzare di livello che noi non abbiamo ancora raggiunto quel livello il sistema fermerà questa persona per 24 ore comunicandocelo dandoci la possibilità di avanzare di livello se noi non lo facciamo il sistema automaticamente ci scavalcherà e darà la possibilità a questa persona di avanzare di livello la cosa di cui stiamo parlando è dare la possibilità a tutti i nostri amici conoscenti i nostri colleghi le persone che noi frequentiamo tutti i giorni di approfittare di questa opportunità e di dare la possibilità anche a loro di guadagnare perché come sapete l'importante non è il business né il piano marketing l'importante in un network sono le relazioni che cosa dobbiamo fare noi passa parola trasmettere l'idea a tutti i nostri amici e conoscenti stiamo vivendo un periodo di crisi in ogni crisi c'è sempre l'opportunità o la calamità va bene noi escludiamo la calamità e approfittiamo di questa opportunità che ci viene offerta per uscire da questa crisi che si è generata non solo in Italia ma in tutto il mondo con questo nostro sistema riceve un flusso illimitato di guadagno attraverso i vari processori di pagamento e più no di processori di pagamento che noi conosciamo oppure si possono avere i soldi attraverso altri sistemi offline come Western Union MoneyGram oppure il pagamento a mano voglio farvi un riassunto questo è il miglior sistema per generare reddito è un piano di rendita autosufficiente continua ed illimitata possiamo cambiare la nostra vita con solo 10 dollari non ci sono altre spese oltre a quelle di cui vi ho già parlato è un sistema che funziona per tutti al 100% ed è totalmente automatizzato riceveremo danaro da qualsiasi parte del mondo non ci sono intermediari è completamente gestito da noi direttamente e per poter ricevere abbondanza è chiaro che prima dobbiamo generarla ecco come possiamo vedere qui non rinunciare a questa opportunità noi non dobbiamo correre a presto alla fortuna ma dobbiamo andargli incontro perché se corriamo a presto alla fortuna non la raggiungeremo mai ma se gli andiamo incontro prima o poi la incontreremo posizioni di oggi stesso fai la tua azione adesso perché la soluzione sta nelle tue mani parla con la persona che ti ha dato questa possibilità che ti ha mostrato questo video e fai adesso già la tua registrazione io mi auguro che sia stata chiara in questa breve presentazione l'unica cosa adesso è quella che voi dovete fare la scelta giusta vi ringrazio per il vostro prezioso tempo ed attenzione ciao a tutti